Allora questo è il nono incontro, i primi sette incontri hanno riguardato il prendere coscienza della situazione di sanguinamento, di sofferenza che l'umanità vive. Quindi se vi ricordate siamo passati da quelli che devono essere considerati sintomi, quelli che in genere noi vediamo come elementi di giudizio, quando una persona si comporta in un certo modo noi qualifichiamo quella persona secondo quegli indizi, quel comportamento e non è giusto perché quelle non sono la definizione di quella persona ma sono solo i sintomi del malessere che ha. Quindi questo è fondamentale secondo me perché noi vedendo che una persona per esempio è aggressiva noi la giudichiamo come una persona pericolosa. Questo può essere pure vero, però l'aggressività come altri sintomi indica qualche cosa da cui questa persona deve difendersi. Per esempio dietro questi sintomi c'è sempre una paura, o paura degli altri, o paura del giudizio, o paura di essere marginati, o paura di essere aggrediti, o paura di rimanere soli, o paura di essere distrutti dal giudizio degli altri. Quindi imparare a considerare i sintomi, il comportamento delle persone come una sintomatologia del loro malessere. E' già una prima, secondo me, guarigione perché ci fa vedere le persone non come persone da giudicare ma come persone che mi manifestano, cioè quando una persona io vedo che si comporta in un certo modo o con me o con altri, mi sta manifestando i suoi sintomi di malessere. E quindi dietro questi sintomi, dicevamo, ci sono sempre delle paure, paura di qualche cosa. E quindi la personalità si è organizzata per vincere le proprie paure, per vincere i propri problemi, per difendersi, per affrontare il male. Dietro le paure, dicevamo, c'è in genere qualcosa di diabolico che riguarda il disprezzo di sé, il fatto di avere la coscienza che così come siamo non siamo in grado di affrontare la vita. Come per dire, così siamo squalificati, così siamo fatti male. E questa è una bugia che fin dai primi uomini, il demonio, il serpente, il serpente e il demonio hanno messo nel cuore dell'umanità. Una bugia. Così come siete, non siete amabili, dovete essere diversi. Rifiutare la propria condizione, il fatto di non considerarsi una creatura amata da Dio. Questa è proprio la radice di ogni male. Poi ci sono tutti i tentativi, abbiamo detto, che una persona fa per cercare di superare questi suoi problemi. E sono un po' come diceva nell'episodio dell'emorroissa, tutti i rimedi falsi che non solo non avevano risultati, perché in genere operavano sui sintomi, ma ci sono tanti falsi medici, nel senso che tante situazioni nostre o delle persone che vorrebbero risolvere questo problema solo a livello di intervento umano. E non fanno altro che aggravare la situazione, scoraggiare e, come c'è scritto in Marco V, consumare tutte le risorse. Diceva aveva perso tutti i suoi denari dietro a medici che avevano solo aggravato la situazione. Ecco, a questo punto comincia la seconda fase del libro, la fase di come guarire. E la prima cosa che dicevamo l'altra volta era la buona disposizione ad accogliere una parola di verità. Ecco, aveva sentito parlare di Gesù. Ecco, un primo approccio a Gesù. Gesù ha un ruolo unico, per cui sentir parlare delle persone è una cosa. Come aveva sentito parlare di tanti altri pseudo-dottori, medici. Ma a un certo punto sente parlare di Gesù. Ecco, il fatto di sentir parlare di Gesù è che quella persona era interessata a quello che Gesù, all'incontro con Gesù, questo è fondamentale come disposizione soggettiva. Perché se una persona non è interessata a Gesù è difficile poterla aiutare. Dio opera attraverso Gesù. Per cui parlare di Gesù, sentir parlare di Gesù, essere curiosi di Gesù, essere interessati a Gesù, sentire la parola di Gesù, volere, aspettarsi da Gesù qualche cosa che ci salva, questo è fondamentale. A livello soggettivo, cioè la persona. Ma non c'è solo la disposizione soggettiva, c'è anche quello che sentiamo oggettivamente. Cioè, se sentiamo parlare di Gesù in maniera sicura. Ecco, questo è il tema di oggi. La fama di Gesù, cioè chi era Gesù veramente. E questo qua, ci sono delle considerazioni anche molto belle, soprattutto che riguardano in questo capitolo il credo. Ecco, noi abbiamo, dopo i primi secoli, si è cominciato, nel IV secolo, con il concilio di Nicea e poi di Costantinopoli, a definire chi veramente fosse Gesù. Gesù, perché non è che Gesù è importante, lo sappiamo, però se non si conosce il vero Gesù, questo fu il problema dei primi secoli, perché c'erano le persecuzioni, ma le persecuzioni non hanno creato troppi danni. Le persecuzioni terribili, anche molti martiri, anche nella nostra zona, qua ci sono stati tanti martiri, hanno prodotto buoni frutti. Quello che era più pericoloso erano le eresie. Eresie che significa? Eresie sono delle verità parziali, cioè ci sono alcune cose giuste, trascurando però altre cose, perché la verità è di tipo sinfonico. Che significa? La verità non è un elemento solo, la verità è come un ventaglio che deve essere tutto efficiente, cioè non si può avere solo un aspetto di Gesù e trascurare gli altri aspetti, perché in questa maniera lo Spirito Santo non può agire bene. Noi dobbiamo avere la verità, possiamo dire, integrale, tutta, intera. E le eresie invece sottolineano solo una parte della verità e trascurano altre parti, per cui il demonio spesso preferisce le eresie, cioè una mezza verità che sembra portare luce, ma di fatto fa infilare qualche bugia. E' come per dire una verità inquinata dalla menzogna. Ecco, queste cose sono purtroppo all'ordine del giorno, perché tante volte dovremmo dire la gente desidera Gesù, ma che cosa ha in testa per Gesù? Qual è il vero Gesù? Ecco, il vero Gesù, dal quarto secolo in poi, noi lo abbiamo nel credo. In effetti, il credo ci dice le verità su Gesù. Si chiama regula fidei. Regula significa come quando c'è una riga. Per fare una linea dritta ci vuole una riga, cioè qualche cosa che mi aiuta a fare una linea dritta, non storta. Oppure una canna. Una volta si usava invece di un mese una canna. Ecco, da cui canone. Canone significa qualcosa di sicuro o anche simbolo apostolico. Su un ballo significa mettere insieme due cose. Unire. Ecco, unire la verità, unire la mia vita alla verità. Quindi, di fatto, la regola della fede è importante, perché se io ho un credo sbagliato in testa, in effetti è più facile per il demonio portarmi fuori strada. Cioè, io ho bisogno di essere ben disposto, ma ho bisogno pure di nutrirmi di cose non marce. Perché se una persona è ben disposta a mangiare e ha lo stomaco buono, ma si nutre di pere, diciamo, fradice, di fatto non è che conclude granché. Quindi, se una persona è ben disposta a credere, ma in testa ha idee sbagliate, in effetti è facile che sbaglia strada. Quindi, la regola fidei è importante, per questo ce la fanno dire ogni domenica, non per fare un pappagallo, no? Credo in un solo Dio Padre Onnipotente. Intanto, il credo comincia con Dio Padre Onnipotente. E questa è già una cosa ottima, dice l'autore, perché non è un Dio generico. È un Dio che è mio padre. Di fatto, noi, tante volte, non ci rendiamo conto di quanto sia padre Dio. Spesso noi lo consideriamo come più Dio che padre, no? Noi tante volte sottolineiamo più il fatto della divinità che della paternità. Però, di fatto, la regola della fede ci dice la prima cosa, che Dio è nostro padre. E questa è la gioia di Gesù, perché, siccome Gesù, come dice Giovanni 1,18, Dio nessuno l'ha mai visto, dice il Vangelo di San Giovanni al capitolo primo, solo Gesù, il figlio eterno, ce lo ha rivelato. E il figlio ci ha rivelato che Dio è suo padre, è nostro padre, diventato soprattutto col battesimo, noi siamo veramente figli. Ma spesso, se ci fate caso, noi ci comportiamo come estranei. o lo consideriamo estraneo. E lui, giustamente l'autore, sottolinea questo è un difetto terribile. Perché non è questa fede diritta, come diceva San Francesco, dammi fede diritta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda. Però, è già una cosa storta, il fatto che noi non siamo abituati a gioire della paternità del padre. Io penso che questa è una cosa che noi tutti dovremmo ogni giorno invece vedere come cammino di conversione. Tu sei, io ho un padre, che pensa a me. Se ci fate caso, in Matteo 6, Gesù dice, quando siete preoccupati, voi rischiate di comportarvi come i pagani, che non hanno un padre. Ma il padre vostro, che è nei cieli, si prende cura pure degli uccelli del cielo e dei gigli del campo. Quanto più si prenderà cura di voi, che siete suoi figli. Vedete, il fatto stesso di vivere da orfani o di cercare una paternità umana, di fatto, per esempio, anche San Francesco si convertì quando proprio Dio permise che suo padre lo rifiutò. Quando San Francesco vide che suo padre lo rifiutò, allora lui fu costretto ad ammettere che aveva un solo padre nella piazza di Assisi davanti al Vescovo. Quindi, sapete, la paternità di Dio ci scarica molto la vita. Perché la paternità di Dio significa che Dio prende l'iniziativa di curarmi. Cioè, è Lui che provvede. Per cui io devo solo intessere un dialogo col Signore e fare del mio. Infatti, dobbiamo agire, ma non con preoccupazione, con la coscienza che la nostra azione si associa a quella preveniente del padre. Ecco, quando noi ci alziamo la mattina il padre è già sveglio, diciamo, per dire una cosa. Non lo dobbiamo cercare noi. È Lui che ci accoglie quando ci svegliamo e dobbiamo elevare la nostra attenzione a Lui e siamo già amati. Ecco, noi in questo mondo non siamo soli. Perché Dio ha tanto amato il mondo poi addirittura da mandare suo figlio per noi. Tanto siamo importanti. E lasciarsi amare è già difficile, dice l'autore. Non è facile convincere gli uomini che la prima cosa non è fare qualcosa perché Lui mi ama come ama Gesù. È difficilissimo che una persona se non ci medita sopra, se non si lascia guidare dallo Spirito, arrivi a dire come il padre ama Gesù così ama me. Fra l'altro Gesù l'ha detto pure nel Vangelo di San Giovanni proprio prima di morire ecco, come il padre ha amato me così io ho amato voi. Lo stesso amore. Ecco, sono parole che se trovano un'accoglienza vera già riempiono la vita diversamente. Ecco, quindi bisogna veramente già partire da questo. La seconda espressione della fede diritta è che Gesù è il Signore. Ecco, Gesù risorto è il Signore cioè nessuno può strappare il potere a Gesù. E tante volte noi abbiamo l'impressione addirittura la maggior parte della gente pensa che Dio sia assente. Se voi vedete statisticamente c'è un sacco di gente che dice io mi sento solo io mi pare che Dio mi abbia abbandonato. Ecco, sono tutte impressioni vere ma umane. non sono espressioni dettate dalla fede. Perché c'è bisogno di questa fede diritta? Perché sia l'onnipotenza di mio padre che già Gesù si commuove quando parla del padre esulta nello spirito dice Luca che è importante esultò nello spirito e disse Abba padre mi compiace gioisco di te. E la Signoria di Gesù per esempio sono due cose che danno un fondamento diverso alla nostra fede perché moltissime persone non credono che Gesù è il Signore. Molti pensano che chissà come andrà chissà come mi andrà non so hanno l'impressione che il male sia più forte del bene e voi pensate se Gesù è il Signore io devo stare attento a non servire altri non servire né la ricchezza umana né le preoccupazioni né dare troppa importanza a nessun altro neanche le creature amate perché appena io do troppa importanza a una creatura già io rischio di crearmi un idolo cioè di dare un'eccessiva importanza paragonabile a Gesù il Signore. Questa è l'idolatria è una delle cose più terribili della Bibbia. il fatto che una persona dà un'eccessiva importanza un eccessivo ruolo a un elemento naturale o a una creatura o a un elemento naturale e quindi dando eccessivo importanza già si devia la vita perché sapete già il primo comandamento amerai il Signore con tutto il cuore non è più vero perché tu ami soprattutto qualche altra cosa addirittura più di Dio quindi questo è da riflettere molto gli idoli dice l'autore giustamente guardi mi riferisco in questo incontro alle pagine da 151 a 185 quello che dirò oggi riguarda queste 34 pagine e intanto giustamente dice guardate che gli idoli li alimentiamo noi siamo noi che creiamo un idolo voi vedete per esempio quello che hanno fatto nelle settimane scorse tante brave persone anche a Napoli con Maradona che fra l'altro aveva una vita discutibilissima dal punto di vista morale però di fatto la tendenza a idolatrare qualcuno sarà un campione sarà un politico sarà un attore sarà un attrice saranno i soldi sarà il potere cioè dare una tale importanza a una creatura da distrarre tutta la vita dal vero Dio ecco è come se quella creatura tu gli dessi tutte le tue energie tutte le tue attenzioni questo fa molto comodo al demonio perché una volta che una persona si dedica a qualche cosa di umano giustamente sottrae il meglio della vita dalla collaborazione con Dio non dà più importanza è come se Dio rimanesse sullo sfondo invece di essere in primo piano è lontano sì credo però prima ci sono tre quattro cose ma figuratevi che certe volte si può creare un idolo anche dei figli delle persone di cui si è innamorati non so dell'arte addirittura per cui l'idolatria è una una delle cose più potremmo dire più normale più statisticamente più frequenti un altro elemento della fede e diritta è il fatto che nacque da Maria Vergine per opera dello Spirito Santo ci sono due elementi importanti nacque fisicamente da una donna fisicamente proprio la corporeità è degna di Dio ecco noi per esempio non abbiamo tutta questa bella concezione della corporeità Dio valorizza la umanità la fisicità non ci si salva senza la carne l'umanità gestita per amore però perché spesso la carne la gestiamo per egoismo e il fatto che siamo nati proprio da una donna pure noi come tutti gli uomini Gesù si è fatto uomo attraverso il corpo fisico di una donna che gli ha dato proprio la carne fisica e questo è importante perché la spiritualità nostra è incarnata che significa incarnata che con i piedi per terra cioè noi non possiamo salvarci o guarire se non stiamo con i piedi per terra mentre molte religioni sono un modo per distaccarsi dalla realtà molte persone pensano che pregare o anche servire Dio significa vivere una specie di nuvoletta morale dove uno si rifugia lontano dalla vita il Signore invece è entrato nella vita Dio ha preso il corpo in Maria però per opera dello Spirito Santo non per opera di uomo quindi c'è l'opera di Dio perché perché l'angelo lo spiegò alla Madonna perché nessuna salvezza è opera dell'uomo la salvezza è sempre un'opera dello Spirito anche noi per esempio abbiamo la necessità di fare operare Lui abbiamo detto nella due incontri fa che tutti i tentativi che fece l'emorroissa di guarire essendo opera umana fallirono e aggravarono la situazione anche noi non ci possiamo salvare se non per opera dello Spirito Santo e questo richiede una certa docilità ecco se non siamo docili non possiamo lasciarci guidare dallo Spirito lo Spirito agisce e ci guida un po' come la docilità di una barca a vela no? si alzano le vele e il vento soffia e porta la barca lontano ecco possiamo ecco non lottare contro il vento ma cercare di guidare farci guidare dal vento e assecondare l'opera dello Spirito Santo accogliere lo Spirito Santo è importante proprio avendo la mentalità che quando diciamo all'inizio l'invocazione dello Spirito Santo senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa quindi l'operatore del bene è amico degli uomini è lo Spirito Santo quindi noi abbiamo un Padre vero che si serve dello Spirito Santo col potere di Gesù il Signore vedete c'è una ci sono tre ruoli che si che devono in qualche maniera operare nella nostra vita ma sapete lasciare operare la paternità di Dio l'amore del Padre il fatto di avere la coscienza che siamo veramente i Suoi figli e che non si può scordare Dio non si può dimenticare in Isaia 58 quando il popolo era molto 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 tentato nella fede e diceva Dio si è scordato di me il Signore dice si può mai scordare una madre un padre di un figlio se sulla terra ci fosse una tale donna io non ti scorderò mai allora questo è importante perché il sì di Maria se ci fate caso è l'aver assecondato lo Spirito Santo Maria su di te scenderà lo Spirito e allora lei dice sì ecco la serva del Signore si faccia di me secondo la tua parola ora questo sì di Maria diventa per noi fra l'altro in questo periodo di proporzione al Natale uno possiamo dire il motivo fondamentale lo stile di vita della nostra vita sapete uno stile accogliente cosciente per esempio che deve operare Dio che siamo amati da Dio tra l'altro anche l'angelo quando si presentò a Maria parlò ecco del fatto che Dio l'aveva colmata di amore di grazia il Signore ti riempi rallegra di Maria perché Dio ti ama infinitamente ed è una cosa che riguarda tutti noi poi un altro elemento sottolineato dal libro è il fatto che patì sotto Ponzio Pilato il fatto di patire valorizza non solo la natura si fece uomo e quindi la mia natura è capace di Dio diceva Sant'Ireneo è capace di Dio ecco noi disprezziamo tante volte la nostra natura noi non ci piaciamo e Dio invece è innamorato della nostra vita nonostante ripeto i peccati ecco è come per dire è come una madre che ama tanto suo figlio anche se si è sporcato anche se si è ferito e quindi già nella natura umana elementi dell'amore di Dio che Dio è vero padre vera madre queste qua sono segni profetici per noi perché Dio mi ama molto più di un padre umano con tutto il rispetto per i nostri genitori di cui dobbiamo avere una riconoscenza grandissima che hanno dato la vita per noi però sono solo un raggio un elemento della paternità di Dio della maternità di Dio dell'azione dello Spirito Santo e dobbiamo rivalutare la nostra natura perché si è fatto uomo vero uomo in tutto eccetto il peccato in tutto e il fatto che non solo si fece uomo per opera dello Spirito e l'opera dello Spirito doveva agire in noi ma anche il fatto che valorizzò pure il patimento e questo è un altro elemento della fede e diritta cioè se noi invece non accettiamo anche che pure il dolore il patimento pure tutte le sofferenze sono capaci di realizzare il bene perché noi abbiamo la tendenza umana a scegliere le cose che ci piacciono e a rifiutare le cose che non ci aggradano ma Gesù invece trovando essendo molto realista trovando le sofferenze di ogni tipo ingiuste anche valorizzò siccome è onnipotente Dio non sciupa niente il Signore valorizza le cose buone come sua madre ma anche le cose cattive come il sinedrio che lo o i suoi nemici che lo hanno odiato quindi sapete questo è un altro elemento di guarigione patì e anche si aggiunge sotto Ponzio Pilato cioè nella storia addirittura il patì sotto Ponzio Pilato sembra anche alla luce della storia umana come un fatto anche un po' ironico perché Ponzio Pilato era diciamo nella storia profana è solo una pedina quindi Dio non solo valorizzò la sofferenza ma si sottomise pure a possiamo dire una persona mediocre come Ponzio Pilato che addirittura ha avuto l'onore di essere nominato nella Bibbia ma diciamo di fatto nella storia Ponzio Pilato era possiamo dire poco che nulla però vedete l'umiltà di Dio che accetta anche un'autorità mediocre ora questo sono tutti elementi di fede e diritta perché ci fanno capire che noi tante volte se ci fate caso noi abbiamo una fede storta non valorizziamo la paternità del padre non valorizziamo la signoria di Gesù non valorizziamo la carne umana che invece Dio si è preso nascendo da Maria non valorizziamo l'opera dello Spirito Santo non valorizziamo le sofferenze e tante volte rifiutiamo pure le autorità umane ecco certo è necessario rifiutarle quando dicono qualche cosa di opposto al Vangelo l'obiezione di coscienza in effetti a volte è necessaria però al di là di questi casi in cui è contraria la legge umana alla legge divina bisogna obbedire prima a Dio che agli uomini per il resto nel Vangelo ma anche nelle lettere di San Paolo in Romani 13 per esempio si dice che l'autorità umana fino a quando non è contraria a Dio è una vera autorità per cui è importante poi addirittura si fa parte della fede umana non solo il dolore ma anche il fatto per esempio che Gesù fu crocifisso e il fatto che Gesù è stato crocifisso sapete la croce di fatto è l'esatto contrario della nostra mentalità perché croce significa per esempio umiliazione fallimento croce significa vergogna croce significa anche le cose più terribili quindi noi spesso siamo nemici della croce però Gesù in maniera anche un po' provocatoria ci dice chi vuole essere mio discepolo rinuncia al proprio egoismo rinneghi se stesso prenda la croce e mi segua addirittura in Luca 14 Gesù si voltò dietro alla folla che lo seguiva e disse se qualcuno non ama me più di suo padre di sua madre e non prende la sua croce non può essere mio discepolo ecco questo è un altro elemento per esempio di guarigione che noi secondo la fede e diritta noi utilizzando bene le croce che abbiamo noi possiamo guarire anzi onestamente mi viene il dubbio che certe volte noi non guariamo perché non sappiamo valorizzare le croce che abbiamo se ci fate caso tante volte noi preghiamo perché ci tolga la croce non che si debba amare la croce in se stessa perché la croce rimane sempre un elemento negativo però voi vi accorgete noi ci accorgiamo che tante volte nonostante preghiamo le croce rimangono un po' come quando Gesù disse in 2 Corinthians 12 a San Paolo ti basta la mia grazia pure San Paolo diceva Signore togliami questa spina ma il Signore glielo disse chiaramente glielo fece capire chiaramente che quella spina doveva rimanere perché lui non montasse in superbia e lo dice due volte San Paolo perché io non montassi in superbia il Signore mi ha lasciato quel tipo di possiamo dire chiamamolo stimolo ecco non tutte le croci onestamente fanno parte del piano di Dio per cui se una croce non fa parte del piano di Dio state tranquilli che se noi siamo ben disposti il Signore li toglie tante croci sono semplicemente problemi umani che noi possiamo affrontare ma ci sono delle croci che fanno parte del piano di Dio allora quando una croce fa parte del piano di Dio è un po' come quando Gesù dice io dovrò andare a Gerusalemme dovrò soffrire e quando è giunta l'ora ha detto è giunta l'ora e non c'è niente da fare Gesù quindi ha scelto di essere uno zerbino dice l'autore è una bella frase questa qua Gesù ha scelto di essere uno zerbino su cui l'umanità potesse pulirsi la suola delle scarpe è un po' la spiritualità di Santa Bertilla Boscardin che aveva intuito che la sua chiamata era quella di essere lo zerbino degli altri cioè gli altri veramente su questa donna anche come Gesù si sono lasciati proprio umiliare ma non per amore dell'umiliazione no per amore della salvezza che è molto diverso il fatto che Gesù sceglie liberamente di umiliarsi per amare me per amare te di fatto dà valore alla nostra vita perché dico Signore ma io valgo tanto ognuno di noi Gesù dice tu vali la mia vita io per te non solo l'ho fatto ma lo farei cento volte quindi la vita non è difendersi la vita è imparare ad amare e più si ama totalmente e umilmente più si vince il male quindi Gesù ha scelto Dio ha scelto di farsi uomo e di vivere la vera umiltà la vera povertà la vera carità ora vedete questa è guarigione proprio integrale possiamo dire tanto è vero che nell'Apocalisse al capitolo 7 al versetto 14 c'è scritto che l'umanità si può lavare le vesti cioè può rendere bianca la vita pulita solo se si immerge nel sangue di Cristo cioè solo se si unisce alla sofferenza di Cristo quindi siccome sofferenze più o meno ce ne sono tutti i giorni da quelle più piccole a quelle più grandi ecco noi possiamo dobbiamo utilizzare le cose buone perché è necessario saper utilizzare le cose buone perché tante volte succede che una persona le cose buone le utilizza per diventare più egoista o più vanitoso e quindi che succede è altro che guarigione e quando ci sono le cose buone uno diventa più superbo più egoista più vanitoso quando ci sono le cose cattive uno diventa disperato invece la vera guarigione che ci propone il Signore secondo la fede diritta è quella di utilizzare le cose belle per lodare Dio per servirlo per gioire di Dio e le cose negative per offrire un atto d'amore a Dio umile per il bene nostro e dell'umanità quindi saper valorizzare in pratica la vita negli aspetti positivi e negli aspetti negativi ecco questo tipo di guarigione in effetti è la vera guarigione mi auguro che mentre sto parlando noi ci rendiamo conto di questo aspettate che guardo ecco penso che sforerò un cinque minuti va bene però il capitolo era molto lungo ma in ogni caso gli elementi del credo che questo capitolo analizza diciamo anche non sono difficili da capire quindi onestamente io li sto sottolineando soprattutto per rimarcare quanto sono importanti ci amò fino alla fine cioè tutto è compiuto disse alla fine Gesù ecco Cristo è diventato con questo stile di vita lo scoglio su cui le onde del male come le onde del mare si infrangono cioè immaginate le onde del mare come se fosse l'aggressione del male di fronte allo scoglio si infrangono si infrantumano così l'amore di Gesù Cristo che ha dato tutto per me tanto è vero perché io mi posso chiedere ma chi sono io veramente e in effetti questo non diciamo non possiamo rispondere in questo momento noi dobbiamo farne oggetto di meditazione Signore per me tu hai accettato e ti sei offerto a morire a soffrire addirittura in Giovanni 11 c'è scritto che nonostante il fetore del cadavere di Lazzaro Gesù non si rifiutò anzi addirittura disse aprite la tomba e non disse che schifo ma accettò quella quella odore di morte quello fetore di morte per dimostrare che che il suo amico Lazzaro lui lo amava proprio è molto importante questo fatto che il Signore accetta qualsiasi cosa anche le nostre schifezze possiamo dire ecco il terzo giorno risuscitò ed è fa parte si può dire la perla di tutta la fede diritta in effetti tutto gira attorno alla risurrezione poi sia l'incarnazione la paternità di Dio perché se noi siamo figli è perché Gesù risorto ha avuto il potere poi diventando il Signore anche non solo del cielo ma anche della terra perché Gesù era già Dio il figlio era già Signore del cielo con la risurrezione diventa anche Signore della terra quindi la Signoria di Dio ci ha dato la possibilità ecco di partecipare a questa vittoria di Gesù e ci sarebbe molto da dire ma io lo sto solo indicando per dirvi che se una persona ha la fede diritta del credo in effetti è molto più facile che noi camminiamo sul sicuro quindi non andiamo avanti secondo idee sbagliate anche il fatto che salì al cielo giustamente nel libro si dice che salì al cielo significa che ci indica la strada del compimento non è che è diventato Signore anche della storia umana e si ferma alla storia umana perché noi siamo di passaggio quindi salì al cielo significa che ci indica proprio il posto come aveva detto lui in Giovanni 14 io vado a prepararvi un posto e sarete con me poi in questa maniera con il salire al cielo il nostro dolore diventa anche il camminare sulla strada che Gesù crocifisso che lui è via che ci porta alla vita vera quindi noi se lo viviamo per amore il dolore diventa un atto anzi possiamo dire ci realizza pienamente certo senza amore la sofferenza e la croce diventa una tortura per noi anche una rovina una persona si può pure dannare con la sofferenza mentre al contrario se la vive per amore di Gesù e dell'umanità la croce può diventare addirittura una pace del cuore un'esperienza di gioia di amore eccetera poi fa parte della fede diritta anche il fatto che il credo dica che siede alla destra del padre ecco siede significa non siederà ecco salì al cielo discese agli inferi significa nella mia morte diciamo a proposito di Lazzaro è entrato nel luogo della morte del fetore del male e ci ha portati invece al cielo siede oggi già il re siede alla destra del padre alla destra significa che ha tutto il potere perché chi stava alla destra del re era quello che aveva il potere del re quindi siede alla destra del padre significa che Gesù ha tutto il potere anche sulla terra il fatto che Gesù eserciti il suo potere non imponendo il bene ma proponendosi questo è un altro elemento della fede diritta il fatto che la regalità di Gesù non si esprime come le regalità umane che si impongono con un esercito la regalità di Gesù invece è una proposta d'amore un invito un re fece un invito ecco il fatto che il Signore non impone niente rientra nella sua logica d'amore e di fatto che quando regna in noi un po' come quando in Galati 2.20 San Paolo dice non sono più io che vivo è Cristo che vive in me e mi ha amato e ha dato se stesso per me il fatto di sentirsi amati da Gesù sapete amati da Gesù amati dal Padre amati dallo Spirito Santo amati dalla Madonna per chi veramente crede nella fede e diritta di fatto è una base che nulla ci potrà togliere un ottimismo che si verifica anche nella nella nostra vita perché tante volte che succede che una persona non ha motivi umani di gioire voi pensate per esempio certe volte in certe giornate in certe situazioni soprattutto pensate ora con questo lockdown con queste con quello che fa che stiamo vivendo nella società tanta gente dice ma che Natale è eppure chi ha la fede diritta nel Signore dice vabbè ci sono problemi però il Natale è Gesù l'essenziale della gioia del Natale non ci manca per una persona che accoglie Gesù nel suo cuore però che sa dare valore a Gesù chi invece è abituato a dare solo valore ai festeggiamenti non al festeggiato in effetti si gioverà molto male perché di fatto senza i festeggiamenti non essendoci manco il festeggiato uno non resta niente perché festeggiamenti non ce n'è soldi tranne quelli che ce li hanno ce ne sono pochini quindi di fatto se non c'è Gesù una persona dice ma che Natale è ma se noi abbiamo invece una fede diritta col fatto che il Signore veramente è venuto per me e viene per me di fatto non è la stessa cosa ed è importante il fatto che per esempio noi cerchiamo proprio prima di tutto il Signore in effetti non è voler snobbare le cose umane ma significa poter incidere nella vita insieme a Dio cioè non affrontare la vita a nome mio se vi ricordate Gesù lo utilizza questo fate le cose a nome mio a nome mio significa con me come voglio io ecco agire a nome di Gesù significa per conto di Gesù come se fosse Gesù quindi il Signore poi è giudice dei vivi e dei morti significa che tutti devono rendere conto a Dio questo è pure fede e diritta nel senso che pure quelli atei pure chi snobba il Signore prima o poi si dovrà presentare davanti alla Signoria di Dio per cui è importante anche capire che non si scherza con queste cose perché il Signore è buono il Signore è mite dolce ma non significa che la sua dolcezza una persona la può calpestare sempre ecco lui per amore nostro per la nostra salvezza si è fatto lo zerbino di tutti però la verità verrà sempre fuori alla fine Gesù lo dice poi alla fine la verità verrà fuori e l'importanza che noi diamo alla vita è un po' lui cita una bella frase di Chiara Corbella Petrillo l'importante nella vita non è fare qualcosa questo è scritto sulla sua tomba ma nascere e lasciarsi amare quindi la fede diritta significa che una persona riconosce la verità dell'amore di Dio e lo fa operare nella propria vita ecco così l'unica cosa che non ci guarisce è la nostra testardaggine il fatto che noi per esempio restiamo chiusi nelle nostre idee ma quando a partire dalla apertura dell'accoglienza della parola di Dio facciamo entrare la verità attraverso il credo in questo caso è tutto quello che c'è poi attorno al credo perché il credo naturalmente è la sintesi un po' dell'esperienza cristiana però di fatto più noi abbiamo la possibilità di far entrare dentro di noi la verità di Dio e quindi poi anche la carità di Dio e lasciarlo operare perché Dio opera sempre perché Dio è con noi in effetti noi abbiamo la reale possibilità di cambiare vita però secondo questa fede è diritta non secondo quello che ci viene in testa cioè adattando lasciandoci plasmare dallo Spirito Santo con tutti gli strumenti che lui e le situazioni che lui ci fa incontrare nella vita senza aver paura delle situazioni perché appena ci chiudiamo appena ci rigidiamo in effetti ostacoliamo l'azione dello Spirito di Dio 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 Dio di Dio di Dio di Dio di Dio